Musica Pensioni, giovani, reddito di cittadinanza. Qual è la situazione su questo fronte nel veronese? Lo abbiamo chiesto a Claudio Bolcato, presidente delle ACLI territoriali. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato una nuova legge in materia di energie da fonti rinnovabili, soddisfatto l'assessore Cristiano Corazzari. La carenza di cibo, la fame, la scarsità di acqua. In Africa la crisi alimentare è preoccupante. Una serie di eventi, inclusa la guerra in Ucraina, sta determinando una situazione molto grave. Musica Buonasera, ben ritrovati dal Tg di Telepace. Dopo la presentazione del rapporto IMSS da parte del Presidente nazionale Antonio Tridico, qual è la situazione delle pensioni nel veronese? Abbiamo chiesto un parere a Claudio Bolcato, presidente delle ACLI territoriali, che ha parlato delle impressioni su questi temi derivanti dall'attività e contatti nelle varie sedi del patronato. Giacomo Biancardi Per parlare degli ulteriori numeri, che sarebbero comunque una fotografia ancora parziale della realtà, io vi do la sensazione proprio che hanno i nostri operatori che quotidianamente ricevono persone. Sono tre sentimenti soprattutto. Il primo è il disorientamento dell'utenza, poi c'è la paura che sfocia anche in aggressività. Ecco, queste sono un po' le persone che approcciano oggi i servizi. E sono situazioni che stanno diventando anche di difficile gestione. Soprattutto serpeggia un stato, un disagio latente, diciamo, e lo riscontriamo soprattutto in alcune categorie di persone. La ricerca soprattutto della pensione. Ci sono tantissimi sessantenni che si rivolgono ai patronati con il miraggio della pensione a tutti i costi, anche sopportando, facendosi carico di eventuali riduzioni dovute ad anticipi e cose del genere. Ci sono poi i giovani che arrivano con contratti che definire atipici sarebbe troppo poco al giorno d'oggi e contratti che non danno garanzie di stabilità. E poi ci arrivano tantissime richieste di prestazioni di salute legate al mondo della salute, per cui invalidità e ricerca anche di bonus di agevolazione. Infine c'è tutto il mondo del reddito di cittadinanza e di tutte le forme di sostegno al reddito. Anche qui questo è un chiaro segnale di erosione dei redditi tradizionali e di una povertà crescente. Alla luce di questa situazione chiaramente occorrono degli interventi, ci vogliono delle proposte. Da parte ACLI che cosa avete individuato, soprattutto per quella fascia di età di persone che per esempio sono prossime ma non vicine alla pensione e hanno anche bisogno di una riqualificazione del proprio lavoro? Allora come ACLI si sta elaborando a livello nazionale una proposta da portare negli opportuni tavoli istituzionali che ha come tema la casa del lavoro e parte dalla constatazione del fallimento dei centri dell'impiego come luoghi di ricollocazione delle persone e vorrebbe spostare la responsabilità e la progettazione diciamo di questi percorsi di reinserimento sul terzo settore in collaborazione con gli enti locali. Per cui tornerebbe tutto il tema della coprogettazione, coprogrammazione alla luce anche dei fondi disponibili del PNRR. La Croce Blu di Međugorje arriva a Verona per tre giorni di preghiera. È la croce originale che si trovava ai piedi della Collina delle Aparizioni fino al 1988. Domani alle 18 arriverà nella sede della Fevos a seguire alle 20. sosterà nella chiesa di Santa Toscana per la messa a cui seguirà alle 21.30 l'adorazione per tutta la notte. Sabato alle 8.30 sempre a Santa Toscana la messa e poi l'adorazione. Domenica da Croce Blu sarà ospitata nel carcere di Montorio per la messa e l'adorazione animata mentre nel pomeriggio sarà a casa di Enrico, persona tetraplegica che soffre di questa condizione da più di 20 anni. Lunedì, in occasione del trigesimo della morte di padre Flavio Roberto Carraro, vescovo emerito di Verona, l'amministratore apostolico Monsignor Giuseppe Zenti presiderà la messa in cattedrale alle 18.30. Parliamo adesso del Consiglio regionale del Veneto che ha approvato una nuova legge in materia di energie da fonti rinnovabili, soddisfatto l'assessore Cristiano Corazzari. Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato una nuova legge con la quale si intende disciplinare la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra, limitando l'utilizzo di suolo agricolo per questo scopo. Era importante dettare delle regole, ha commentato l'assessore Cristiano Corazzari, rimarcando nel contempo la necessità di implementare l'utilizzo di energia rinnovabile, tutelando, nel medesimo tempo, la salvaguardia del terreno agricolo e delle produzioni alimentari. La legge approvata a livello regionale rispetta quelle che sono le norme introdotte a livello nazionale, ma anche europeo, introducendo il concetto di partecipazione nel processo decisionale per la posa degli impianti fotovoltaici degli enti territoriali, quali comuni e province. Se sempre secondo Corazzari, la legge pone come obiettivo il contrasto di fenomeni speculativi in materia di energia rinnovabile, ribadendo che il messaggio emergente dal testo è quello di un atteggiamento favorevole al fotovoltaico, alle rinnovabili, sui capannoni, sui tetti, nelle aree degradate e in aree produttive. La carenza di cibo, la fame, la scarsità di acqua. In Africa la crisi alimentare è molto preoccupante. Una serie di eventi, inclusa la guerra in Ucraina, sta determinando una grave situazione. Ne abbiamo parlato con il direttore di Nigrizia, Giuseppe Cavallini. Il nuovo numero di Nigrizia, mensile dell'Africa e del mondo nero, redato dai missionari comboniani, è dedicato a quello che viene definita la vertigine demografica, quale sfida africana. Una sfida che comprende il contrasto a un enorme problema, legato alla carenza di cibo e di acqua in molte nazioni. Al direttore Giuseppe Cavallini abbiamo chiesto una valutazione sulla situazione del continente su questo specifico aspetto, partendo da un'area geografica, quella del corno d'Africa, dell'Etiopia, per allargare il discorso ad altre nazioni. Sentiamo cosa ci ha risposto. La situazione un po' la si intravede quando qualche volta fanno dei programmi in tv o qualche telegiornale, è che appunto, soprattutto a partire dalla guerra che è scoppiata, quello che già prima era una crisi alimentare che davvero era presente, soprattutto nel corno d'Africa, in modo molto forte, si è estesa a tutti i paesi del Sahel. Quindi va dalla Somalia fino all'Africa occidentale in pratica e non ha fatto altro che creare situazioni di emergenza sempre più forti per la questione del grano. Non arrivano più cereali e quindi l'unica speranza adesso è che si sblocchino questi porti sul Mar Nero dell'Ucraina, dove peraltro oggi sono arrivate le prime navi e allora quello potrebbe riavviare il flusso di cereali che potrebbe anche salvare un po' la situazione, però è già il disastro perché parlano in totale di 40 milioni di persone a rischio di fame e non soltanto a livello poi concreto di noi, anche perché io lo sento dei missionari che lavorano un po', la situazione è già disastrosa perché parlano di due milioni di capi di bestiame minuto e grande, tipo i cammelli in Somalia, in sud Etiopia, nel nord del Kenya, morti e di altrettanti animali su cui loro basavano la loro economia. Adesso hanno cominciato a morire i bambini, quindi negli ospedali anche tenuti dal QOM, da altre organizzazioni non governative, purtroppo hanno una crisi terribile. Il programma alimentare mondiale ha denunciato ufficialmente che se non troviamo una soluzione soprattutto con lo sblocco dei porti non farà che degenerare la situazione globale. Quando i nonni vivono sotto lo stesso tetto con genitori e nipoti la divisione delle faccende domestiche all'interno della coppia è più egualitaria e quindi meno sbilanciata a sfavore delle donne. è la conclusione di uno studio pubblicato sulla rivista Genus e firmato da Marco Albertini dell'Università di Bologna e Marco Tosi dell'Università di Padova. Gli studiosi hanno analizzato la distribuzione asimmetrica dei compiti domestici all'interno delle coppie di genitori italiani in relazione ai rapporti tra nonni, genitori e nipoti. La situazione politica nazionale è in un momento difficile. Ce ne parla Don Bruno Fasani che analizza quello che sta succedendo a Roma. Vediamo. Mentre parlo non so ancora dirvi se questo governo durerà ancora qualche mese o se andrà a gambe all'aria. Tutto grazie al Movimento 5 Stelle che in questi momenti in cui sto parlando probabilmente ha deciso di uscire dall'aula del Senato quando saranno votati i provvedimenti per far fronte alle urgenze del Paese in questi giorni. Sapete che le urgenze sono tantissime. Ci troviamo in situazioni di grande sofferenza legate all'economia, legate al rifornimento del gas, legate alla siccità, legate a mille problemi con un rincaro della vita che sta facendo paura e che rischia di creare ancora ulteriori povertà. Ebbene questi signori, ed è la prima volta forse che faccio qui a Telepace un intervento così diretto politicamente, hanno deciso, questi signori, di uscire dall'aula del Senato quando si voteranno questi provvedimenti. Vedete, avevano tante possibilità. La possibilità di ritirare i ministri dal governo e dire noi usciamo, quindi aprendo formalmente la crisi. avevano la possibilità di rimanere in aula e votare secondo coscienza, invece decidono di uscire. Quindi non mettendoci la faccia direttamente, dicendo noi ci prendiamo la responsabilità davanti agli italiani per ciò che causeremo in caso di caduta del governo, ma noi usciremo. Se cadrà il governo diremo che è stato per motivi nobili, che non è stato per causa nostra, e così faremo qualche mese di opposizione dura prima delle elezioni per avere visibilità e portare a casa qualche posto di quelli che stiamo perdendo. A casa mia questo si chiama irresponsabilità e opportunismo, per non usare parole più pesanti. Dal grano al pane i prezzi aumentano anche di 10 volte a causa di speculazioni e distorsioni all'interno delle filiere che impoveriscono le tasche dei cittadini e danneggiano gli agricoltori, strozzati dai rincari record di energia, mangimi e fertilizzanti. A denunciarlo è col diretti, con l'impennata dell'inflazione che peserà sul carrello dei consumatori vicentini oltre 130 milioni di euro nel 2022, mentre nei campi i compensi sono ormai scesi sotto i costi di produzione, costringendo molte imprese a lavorare in perdita. Con questo è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi e buona serata. Grazie per la visione!